E' il prodotto a cui dedichiamo più amore e più passione in azienda. Parlava da produttore di vino e come tale era stato più volte intervistato anche al Vinitali. Ma Ruggero Rizzuto, per l'accusa, stava finanziando la sua etichetta con i soldi dei boss Salvatore Inzerillo e Rosario Gambino, somme che avrebbe dovuto gestire come amministratore giudiziario e che ora sono state sequestrate ai suoi eredi. E' importante avere sempre l'attenzione alta sui patrimoni mafiosi, non soltanto quando sono i mafiosi, anche quando vengono sottratti i mafiosi perché comunque sono molti soldi e purtroppo i soldi naturalmente fanno cura. Un decennio prima che scoppiasse il caso della malagestione dei beni confiscati con il magistrato Silvana Saguto condannata per corruzione, il commercialista Rizzuto, secondo l'accusa, fra il 2005 e il 2008 avrebbe prelevato 621 mila euro dai libretti di risparmio di Gambino Inzerillo, reinvestendoli in un orificio e in un'azienda vinicola, nei terreni di famiglia nell'Agrigentino. Rizzuto è deceduto 5 anni fa. Un'azienda vinicola, un orificio che poi alla morte dell'amministratore giudiziario è stata venduta dagli eredi. Quasi un milione di euro il ricavato della vendita. Sono soldi sottratte dalla comunità dai mafiosi e sono soldi che ritornano alla comunità e devono essere impiegati per la comunità.